A San Pietroburgo, il programma di martedì Nella giornata di ieri, a San Pietroburgo, l'uscita di Paolo Lorenzi, fermato dal bosniaco Dzumur. Quest'oggi, sono solo quattro le partite di singolare in programma, tutte sul campo centrale. Ricardas Beranchis sfrutta il ranking protetto e si presenta nel tabellone principale per sfidare il qualificato Masur. Tre sconfitte consecutive per Beranchis, ora la prova con il più giovane tedesco, reduce da due successi in sede di qualificazione, con Gabbasvili e Vattutempo. A seguire, Ernest Sgulbis. 62-61 anni del co per guadagnarsi il Meinrad, Gulbis duella con Broadi, bravo a reprimere Albot al prolungamento del terzo. Nel pomeriggio, John Patrick Smith, 76-62 a Elgin, incrocia Yuznyi. Due precedenti favorevoli a Russo, ha un passo dall'impresa Flushin Madov's Confederer. 5-7 a fasi alterne. Una sola testa di serie in campo, Viktor Troiki. Fermato da Dolgopolova a New York, deve fare attenzione a Kuznetsov. Senza dubbio l'incontro più interessante della giornata odierna, attenzione a possibili sorprese. Centrecourt starts at 1.00pm. 1strd, PR, Ricardas Berankis vs, Q, Daniel Masur. 1strd, Q, Ernest Sgulbis vs, Q, Liam Broadi. Not before 4.30pm. 1strd, Q, John Patrick Smith vs, Mikhail Yuznyi. Not before 6.30pm. 1strd, Andrei Kuznetsov vs, 7, Viktor Troiki. Not before 6.30pm. 1st, Andrei Kuznetsov vs, Mikhail Yuznyi. Not before 6.30pm. 1st, Andrei Kuznetsov.